Blogos Web Radio Patrick ci racconterà la figura di Piola Torre e ci spiegherà le attività e gli obiettivi di questo gruppo. Benvenuto a Patrick Wilde, membro del GAP, gruppo antimafia Piola Torre. Allora Patrick, vogliamo cominciare partendo dal vostro nome. Mi vuoi ricordare in breve chi era Piola Torre? Sì, salve. Piola Torre è una figura di primo piano nella lotta alla mafia, ma non certo meno importante. Magari meno romanzata di quella che può essere, che so, la figura di Peppino Impastato, ma certamente di primo piano. Piola Torre era un membro della partita comunista siciliano e fu il primo a parlare di confisca dei beni mafiosi, quindi togliere, riconsegnare allo Stato quei beni, quelle ricchezze che contribuivano ad arricchire il mafioso. Successivamente Piola Torre cominciò una battaglia contro la costruzione dell'aeroporto americano a Comiso e venne ucciso dalla Cosa Nostra siciliano. Piola Torre era un amico intimo del generale della chiesa, il quale comunque venne ucciso a brevissima distanza. Noi abbiamo scelto il personaggio di Piola Torre come sigla per il nostro gruppo, perché proprio dalla confisca dei beni mafiosi, quella che poi diventerà la cosiddetta legge Rognoni e la Torre, parte la nostra esperienza come giovani, come gruppo antimafia, quindi dall'esperienza dei campi confiscati alla mafia, del progetto Liberarsi dalle Spine. Quindi mi puoi dire quando siete nati, come siete nati e quali sono gli obiettivi che vi prefiggete? Noi abbiamo partecipato per tre anni ai campi di lavoro, Liberarsi dalle Spine, a Corleone e Canicattì. L'anno scorso, il primo anno, nel 2008 scendemmo in tre, poi successivamente lo scorso anno, mentre la scorsa estate riuscimmo a portare ben 15 persone, 15 giovani, nei campi confiscati alla mafia. Da allora abbiamo maturato la convinzione che non fosse necessario fare un'esperienza del genere solo in Sicilia e lasciare che qua durante il resto dell'anno le cose scorressero come al solito. Siamo convinti che qui, nella nostra terra Emilia-Romagna, in una regione ricca, sia necessario parlare di infiltrazioni mafiose. Un argomento spesso scomodo e chi più evita o no, perché va in gioco comunque argomenti come gli anticorpi democratici. Diciamo che spesso la politica ha evitato di parlare di questo argomento, convinta di poter eludere il problema delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Come abbiamo visto, fiumi di sentenze, comunque di inchieste, gli ultimi fatti di cronaca sia a Bologna che a Rimini, comunque in tutta la regione, stanno a dimostrare il contrario. Quindi non solo parliamo di infiltrazioni mafiose, cerchiamo di sensibilizzare la gente del luogo, ma soprattutto tentiamo di coinvolgere i giovani, perché devono avere gli strumenti per potersi informare e sapere che diciamo che c'è una parte buona. Infatti per questo andiamo soprattutto nelle scuole, presentiamo il progetto ai giovani delle scuole, facciamo tra virgolette una piccola parte di formazione e cerchiamo di far da ponte tra questi il progetto dei campi confiscati. Invece so anche che molti di voi sono musicisti. Qual è il ruolo della musica nella Lottella Mafia? Cosa fate voi? Molti dei ragazzi che fanno parte del GAP sono anche, come io stesso, membri dei Folli e Folletti Folk. Siamo un gruppo di Rimini e provincia, principalmente sogniamo musica folk rock, quindi canzoni dedicate alla resistenza, al mondo del lavoro, musiche irlandesi. Abbiamo utilizzato lo strumento della musica come strumento di socializzazione, di aggregazione per i giovani, non solo, per cercare di sensibilizzare e sponsorizzare ulteriormente il progetto dei campi confiscati. In questo senso tra novembre e dicembre abbiamo iniziato un particolare tour della legalità tra Milano e la Sicilia, quindi toccando Toscana e Bologna, la provincia di Rimini, Marche, Milano e quindi scendendo giù in Sicilia a dicembre per promuovere attraverso la musica questo potentissimo strumento a nostro avviso, questo progetto a cui noi crediamo fortemente. Grazie mille a Patrick Wilde per il contributo datoci. Grazie mille. L'intervista è stata curata da Giussi Gullo Un saluto da Lucio Cipollari